Volevo ovviamente da lei una riflessione su questa prima parte dei nostri discorsi, però voglio leggerle un'agenzia che è arrivata stamattina dall'America. Le maggiori banche al mondo si preparano a quello che fino a poco tempo fa sembrava impensabile, la disintegrazione dell'area euro. Lo riporta il New York Times sottolineando che molti istituti di credito, tra cui Merrill Lynch, Barclays Capital e Nomura, hanno pubblicato decine di rapporti in settimana nei quali esaminano la possibilità di una disintegrazione dell'area dell'euro. E' uno scenario possibile secondo lei? Secondo Imaia sì. Ma non è mica una novità. Lo sappiamo da un pezzo che stiamo rischiando la disintegrazione dell'area dell'euro. E del resto quella che è stata il vertice recente tra Italia, Germania e Francia rappresenta una testimonianza ulteriore del fatto che noi stiamo andando verso la disintegrazione. Perché quando sono usciti i tre leader dal loro consesso e si sono ritrovati in conferenza stampa, noi abbiamo scoperto da un lato che il Presidente Monti si è reso disponibile a tutto. Ha confermato l'obiettivo del pareggio di bilancio nel 2013, nonostante la recessione, che è già di per sé una mostruosità dal punto di vista macroeconomico, si è reso disponibile a rinunciare alla sovranità fiscale perché ha aderito all'idea che i Paesi che dovessero poi sforare l'obiettivo del pareggio di bilancio possono essere sottoposti a sanzioni automatiche. Si è reso disponibile a tutte queste cose e la cancelliera Merkel dal canto suo non si è mossa di un millimetro. Perché la signora Merkel ha assolutamente escluso l'ipotesi dei cosiddetti eurobonds che fondamentalmente stanno ad indicare un tentativo di condivisione dei rischi sui titoli europei. Ha escluso assolutamente che i tedeschi possano avallare un ruolo della Banca Centrale Europea come prestatore di ultima istanza, che è l'unica ormai chiave per poter garantire la salvaguardia della zona dell'euro. E purtroppo sappiamo che questi sono orientamenti non meramente tattici della signora Merkel, ma sono ormai strategici. Nel senso che in Germania sembra stia prevalendo ormai un orientamento all'interno dei grandi gruppi e dell'establishment tedesco, secondo cui l'euro ormai, la moneta unica ormai, è data per persa. Chiaramente a questo punto i mercati fanno un'operazione molto semplice. Gli operatori sui mercati finanziari da un lato rilevano che le politiche restrittive che dovevano portarci fuori dalla crisi in realtà ci stanno facendo piombare in recessione. La recessione naturalmente stimola e spinge inevitabilmente i paesi ad essere tentati dallo sganciamento e dalla svalutazione, soprattutto chiaramente i paesi periferici. E quindi gli operatori sui mercati finanziari incorporano nei cosiddetti spreads, cioè essenzialmente nei tassi di interesse, quello che si definisce in gergo un rischio di cambio. Cioè ormai dentro gli spreads c'è il rischio proprio che ci sia la disintegrazione della zona euro. Per cui non serve Merrill Lynch. Basta guardare l'andamento dei tassi di interesse per capire che stiamo andando verso la disintegrazione. Quindi non ci sono motivi elettoralistici dietro la rigidità della Merkel? Guardi, il problema è che in Germania, se si guarda un po' più approfonditi al dibattito interno alla Germania, ci si rende conto che essenzialmente lì si sta facendo un'analisi di costi e benefici. Allora, da un lato che cosa si dice? Si dice che se i paesi periferici si sganciano e quindi svalutano e fanno un parziale default, cioè correggono il loro indebitamento, in vari modi si può fare, chiaramente le banche tedesche e le imprese tedesche pagano un prezzo. Perché le banche tedesche in quanto creditrici si ritrovano con dei crediti inesigibili, le imprese tedesche si ritrovano con le imprese dei paesi periferici più competitive. Perché ovviamente la svalutazione dei paesi periferici rende le imprese dei paesi periferici più competitivi. Sotto questo aspetto sembrerebbe quindi che i tedeschi siano, come dire, propensi a salvare l'euro, perché non gli conviene evidentemente una disintegrazione. Tuttavia, per altro verso, lo sganciamento dei paesi periferici e la svalutazione riduce il valore dei capitali nazionali dei paesi periferici e quindi consentirebbe ai tedeschi di fare shopping a buon mercato. Quindi detto in soldoni poi le aziende di questi paesi periferici si potrebbero acquistare in maniera molto più semplice. Il valotto, specificamente politico, economico e finanziario, dura dal famoso Britannia, il panfilo della regina che si riunì a largo di... Si riunì, no? Il panfilo non si riunisce, ma insomma, a bordo del quale si riunirono nel 92, no? A largo di civiltà vecchia un certo numero di personaggi importanti della finanza giudo, bluto, anglo-americana, tra cui naturalmente Mario Draghi e Carlo Azzeglio Ciampi. e lì cominciò tutto, nel senso che Tangentopoli divenne il red rationem di un'intera classe dirigente, arrivarono i governi tecnici, il rigore e appunto le privatizzazioni. Allora c'è gente che ancora pensa che questi qui britanni abbiano veramente deciso questo, no? Questi medesimi oggi si ripropongono con idee analoghe sul complotto ai tecnocrati che hanno commissariato l'Italia e la Grecia per poi comprarsene piuttosto che... Purtroppo non è così, perché il complotto, esattamente come dall'altra parte il governo mondiale, che sono poi le due facce medaglia, sono l'idea veramente infantile che si possa governare il mondo. Quando noi usciremo da questa idea, secondo me riusciremo anche ad affrontare i problemi in modo migliore. Cioè il mondo non si può governare, si possono fare aggiustamenti progressivi, parziali e sempre revocabili per rendere meno complicata la vita di tutti i giorni. Pancani posso intervenire? No, Pancani mi scusi, se mi permette una battuta. Come no? Poiché io considero i complottisti degli imbecilli, ritengo anche che siano molto naif coloro i quali pensano che le procedure di mercato possano essere separate dal processo politico. E penso di aver detto abbastanza. Allora, annuiva Martone. Allora, no, volevo...